Salve a tutti ragazzi, sono sempre Momenzo e benvenuti in questo nuovo video della carriera allenatore con l'Inter Nello scorso episodio, signori, 6 punti in due partite, il massimo che potevamo ottenere Oggi però c'è il turno infrasettimanale Prima partita contro il Verona, non so contro chi saremo questa domenica Comunque io direi di fare un attimo un pelo di turnover Perché ci sono un po' di giocatori stanchi Un po' di giocatori stanchi, per esempio al posto di Icardi Anche se... no, Icardi mi sa che lo tengo Lyukshaw al posto di Tejes Perisic che torna da un infortunio al posto di Bolasi Anche se non è in formissimo Perisic, gli facciamo fare qualche minuto Metterei Santon al posto di Florenzi Ok, direi che questa formazione va più che bene Andiamo a giocarci la nostra partita di campionato con Lella Sverona Siamo in casa, quindi dobbiamo per forza fare un buon risultato davanti ai nostri tifosi Eccoci qua ragazzi, a San Siro Inter Lella Sverona La mia formazione l'avete già vista Dell'Lella Sverona ci interessa poco e niente No, ovviamente sto scherzando però Qua bisogna giocare Bella palla recuperata da Marez Che non so cosa ci faccia lì sinceramente Bella palla per Perisic Che la mette in mezzo dove c'è Jovetic Che gol di Stefan Jovetic Ma che palla signori Che palla di Ivan Perisic Una palla così non l'avevo mai vista signori Cross di destro Pazzesco Pazzesco ragazzi Jovetic è fantastico Guardate qui ragazzi Che gol Mamma mia Che golasso signori Che golasso Gran palla di Perisic Che si presenta così Subito con un assist Debuto anche per Yuksho In questa serie A Nuova serie A per lui Vediamo come si ambienterà Un ragazzo giovanissimo Di sicura prospettiva Ma che mi dovrà dimostrare anche di cosa è Capace Cambia gioco Perisic Dove c'è Santon Anche per lui esordio Santon Oddio che palla per Mares Che palla per Mares La palla è ancora lì Signori Mares si è mangiato un gol abbastanza clamoroso Grande parata di Rafael Non riusciamo a ripartire però Attenzione Viviani Passini Alfredson prova il tiro Che non impenserisce Andano Dice Bello vedere come il tiro di Alfredson È rimbalzata contro le borracce E non le ha mosse neanche di un centimetro Icardi lento in questa manovra Bene Alfredson invece Ancora Viviani In seguito però da Perisic Molto bene il lavoro difensivo di tutti i giocatori Tornano in molti E poi ripartiamo veloci Intanto qui sbaglia tutto Non so chi sinceramente Regala la palla a Jovetic Che fa ripartire con Dogbia Che a sua volta la perde Ma riesce a giocarla Per Perisic La finta di Perisic Attenzione Davanti al portiere Perisic Ancora Rafael Io non posso crederci ragazzi Fare gol a questi portieri È incredibile Che parata ha fatto Rafael di nuovo Mares La butta in mezzo Dove colpisce di testa Icardi Ma la palla fuori di poco Meritiamo il raddoppio Sala C'è un buco per Viviani Ma signori Santono qui Diagonale pazzesca E poi andano che ci rilancia Va sul sicuro Poi qui intervento fantastico Ma di Perisic Attenzione Oddio Credo avesse fischiato il rigore Invece no Fallo di Perisic Ammonito Perisic Sinceramente mi sembra di aver preso il pallone Alfredson Probabilmente dal di lì Proverà Il tiro È così ma Alto sopra la traversa Di parecchi metri Poi pastini Prova a fermarlo Miranda Gran pala per Alfredson Che prova il tiro Mamma mia che rischio signori Mamma mia che rischio Abbiamo rischiato Moltissimo Qui Alfredson Si è mangiato un gol Incredibile Finisce qui il primo tempo Mentre l'Ellas Attaccava Mamma mia 1-0 per noi Ma Sofferenza Miran Ma chi è questo Tony Cioè Luca Tony di testa ragazzi Ci sta Luca Tony di testa Ci sta Ma Cristo Andano Qui Così sul primo palo di testa Cioè Tony ha colpito da fuori ara Praticamente Vabbè Uno pari Ma questi gol improvvisi Io non faccio Non me ne accorgo neanche Praticamente Comunque se stiamo qui con la testa Secondo me Possiamo stare tranquilli Ancora show La mette in mezzo adesso Dove c'è Raphael Che ragazzi Cioè Sta tenendo a galla Praticamente il Verona Immeritatamente Perché Cioè qua meritiamo Tutta la vita Noi il vantaggio Intanto qui Io non Ragazzi io non spingo niente Ma Faccio fallo Non so cosa dire Se ne va Tony Come se fosse Boh Come se avesse ancora 18 anni Recupera un gran pallone Miranda Ancora lì per Bolasi Ica L'arbitro fischia la fine Uno pari Io ragazzi Veramente non so Non so cosa dire Sinceramente Ho fatto molte azioni Molte azioni Ma purtroppo non sono Non sono andate a buon fine Peccato Comunque un punto Per ora Continuiamo sempre Ad andare a punti E questo è importante Ma la prossima partita È la Fiorentina Andiamo A giocarci questo match Sempre questa formazione 4-2-3-1 Eccoci qua Sempre a San Siro Inter Fiorentina Stavolta è un match Che non si deve sbagliare La mette in mezzo Ma subisce fallo C'è la calcio di punizione Per l'Inter La mette in mezzo Mares C'è Jovetic Che colpisce di testa Ma la palla va Fuori Di almeno un metro Dalla porta Invece no È calcio d'angolo Che batte Filippe Melo La palla torna ancora Filippe Melo Può andare Filippe Melo Il tiro di Filippe Melo No La palla è ancora lì Jovetic Ma dovrebbe essere Calcio d'angolo Sì Può andare ancora Mares Esce Tata Rusano Io ragazzi Se c'è un modo Per calciare i calci D'angolo Ditemelo per favore Perché Io non lo so Ancora i cardi Che palla per Kondogbia Attenzione Il tiro di Kondogbia Centrale Ma come centrale Ma come calcia possibile Da un metro Dalla porta Giuseppe Rossi Cosa ha fatto Samir Andanovic Ancora lui Mamma mia Grande uscita qui Di Andanovic Giuseppe Rossi Ha fatto uno stop Incredibile Trentasettesimo 0-0 Blazikovski La gioco corta Per Iakovenko Ancora Blazikovski Ancora Blazikovski Il tiro Andanovic L'ho sbagliato io A farlo tirare Poi Babacardi Fisico Ma c'è Andanovic No ragazzi Ma che cazzo succede Jovetic Kondogbia Fa ripartire l'Inter Riccardi Volasi Andare Jovetic Si può come il suo Difensore Il tiro di Non ditemi Piastala Perché l'ho piazzata In questo momento L'ho piazzata E come C'è l'ho piazzata Poi Miranda Boh Vabbè Non so Finisce qui Il primo tempo Scusate 0-0 Io Boh Non so cosa fare Sinceramente Non so Veramente cosa fare Attenzione Iakovenko C'è Murillo Attenzione In mezzo c'è Babacar Ancora Iakovenko Ma chi cazzo è Iakovenko Fermiamo Rossi No 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 Questo non l'accetto Raga Questo non l'accetto Però Non l'accetto Ma che cosa è successo Ma sto tiro qui È bagatissimo Ma che tiro è Scusami eh Ma come ha fatto Tirare così Da fermo Ha tirato una sisella Andando Non c'è arrivato Ma 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 andate a fanculo va Ma andate a cagare Ma piantiamola Ma che cos'è Assoluto Ma fanche Così Così Due tiri Due tiri All'incrocio Praticamente Astori Ragazzi Astori Ma figuratevi Se Astori Riesce a fare un gol Così Due minuti di recupero Ragazzi Purtroppo È arrivata anche La prima sconfitta Ma almeno è arrivata contro Una squadra decente Ma che non meritava Assolutamente Questa vittoria E non lo dico Proprio perché Siamo Perché stiamo perdendo noi Vabbè Qui intanto due minuti Non erano passati Ma vabbè Non lo dico perché Ma perché Ovviamente Cinque tiri Quattro in porta Ha fatto zero gol Ma vabbè Fa lo stesso Ci sta Ci sta anche questo Nel calcio Ragazzi Peccato perché Ci siamo allontanati Dalla vetta Per ora Questa è la nuova classifica Ragazzi Siamo calati Siamo calati parecchio Con questa sconfitta Ma la classifica È ancora È ancora veramente Molto corta Comunque ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Signori Purtroppo Ci sono anche questi momenti Brutti Dove si perde Ne perderemo ancora tante Ragazzi A voglia Comunque Lasciate un mi piace Un commento Un consiglio Ragazzi Sostenete La serie Noi ci vediamo Nel prossimo video Un saluto Alla mezza Alla prossima Ciao a tutti Ragazzi Alla prossima Alla prossima